Diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, ha avuto come maestri Orazio Costa e Sergio Tofano. Nella seconda metà degli anni Sessanta, si afferma in teatro cimentandosi sia nel repertorio classico. Seneca, Giordano Bruno, Shakespeare, Goldoni, Che Moderno, Bertolt Brecht, Pirandello, Giuseppe Patroni Griffi, la collaborazione con Giuseppe Patroni Griffi lo impegna in teatro. Con Napoli, Notte e Giorno e Napoli. Chi resta e chi parte? Egli consente di debuttare nel cinema con Metti. Una sera a cena, 1969, qualche anno dopo interpreta Nino Bixio in Bronte. Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato di Florestano Vancini. Del 1972, è uno degli interpreti principali dello sceneggiato I racconti del Faro. 1967, con Fosco Giacchetti, trasmesso sul Programma Nazionale della RAI. Nel 1974 torna al teatro con Masaniello di Elvio Porta e Armando Pugliese. In quegli stessi anni partecipa a numerosi spettacoli di prosa adattati per la televisione, tra i quali Il Miulino del Po di Sandro Bolchi. Del 1971, La morte di Danton di Georg Buchner per La regia di Mario Missiroli. Del 1972, La trilogia della villeggiatura di Goldoni. Ancora con la regia di Mario Missiroli. Del 1975, l'anno successivo è protagonista dello sceneggiato televisivo Dove Anna, in cui recita accanto a Scilla Gabel e Pier Paolo Capponi. Nel 1977, interpreta il protagonista in Saturnino Farandola. Sceneggiato a puntate tratto dal romanzo di Robidà trasmesso dalla RAI nel Palinsesto Pomeridiano. Per i ragazzi, dopo essere stato interprete nel 1978 in Storie della Camorra. Nel 1979 interpreta il commissario Selvaggi nello sceneggiato in cinque puntate per la RAI così per gioco, con la regia di Leonardo Cortese con la sceneggiatura del duo Casacci-Ciambricco. Ricco, interessanti sono state le sue rivisitazioni del teatro di Raffaele Viviani, di cui ha curato l'allestimento di Pescatori, nel 1981 e di Zingari nel 1982. Tra il 1999 e il 2000 ha portato in tourne teatrale vita di Galileo di Bertolt Brecht, interpretando il ruolo del protagonista. Con la regia di Gigi Dallaglio, meno intensa rimane la sua attività cinematografica, con apparizioni in alcuni film quali Regina di Salvatore Piscicelli. Del 1987, Il postino di Michael Radford del 1994 e Un uomo per bene di Maurizio Zaccaro. Del 1999, nel 1998 e nel 1999 recita nella fiction Lui e Lei. E nel 2000 partecipa al film Padre Pio tra cielo e terra dove interpreta padre Agostino Gemelli. Che ha il compito di esaminare l'estimate di padre Pio. Sempre nel 1998 interpreta il ruolo del generale dei Carabinieri nella miniserie Ultimo. Con Raul Bova, Ricky Memphis e Pino Caruso. Ispirato ai reali avvenimenti che portarono alla cattura del boss mafioso Totò Riina. Nel 2006 e tra gli interpreti della miniserie della Rai eravamo solo mille. Sempre per la Rai, è tra gli interpreti di Nebbi e Delitti. Con Luca Barbareschi, dove Rigillo interpreta un solerte e, a volte, ironico questore. Nel 2008 vince il premio Città di Trieste alla Barda d'Oro. Nel 2010 prende parte al cast della famosa fiction di Rai 1 Capri 3. Insieme ai colleghi Lando Buzzanca, Lucia Bosè, Gabriele Greco e Bianca Guacciaro. Nel 2011 vince il Pegaso d'Oro del premio Flaiano alla carriera. Nel 2013 entra nella sopopera di Canale 500 vetrine. Nel ruolo di Vinicio Corradi. Vero padre di Carol Grimani e nemico e rivale di Ettore Ferri. In teatro lavora anche accanto alla sua compagna Anna Teresa Rossini. Buongiorno Contessa e Romolo Il Grande 2009. Di Friedrich Durenmatt. Questa sera si recita soggetto di Luigi Pirandello 2012. Accanto alla quale ha interpretato anche il film Le Grandi Dame di Casa d'Este nel 2004. Ha due figli di cui uno, Ruben Rigillo, è anche egli attore e compagno dell'attrice Anna Teresa Rossini. Il 21 luglio 2016 viene annunciato come nuovo direttore della Scuola di Recitazione del Teatro. Stabile di Napoli Teatro Nazionale. Prendendo il posto di Luca De Filippo.